Evidentemente prima gli episodi ci andavano a favore perché avevamo qualcosa in più durante la partita. Adesso gli episodi ci girano quasi sempre contro, secondo me non è un caso. Qualcosa in più dobbiamo mettercela. Oggi eravamo molto ramaritati perché secondo me a livello proprio di agonismo e di intensità della partita, forse la partita di queste 14, diciamo, è più bassa che abbiamo giocato. Quindi dovevamo dare una svolta. Se prima non eravamo tanto preoccupati è il caso che cominciamo a preoccuparci, ma più che altro perché sarebbe un peccato non invertire questo trend e riprendere la corsa che abbiamo fatto prima. Abbiamo preso il gol che eravamo in 10 e si è fatto male a Birligianco e frangente di là. Io dico, in questi momenti qua è il momento dove devi drizzare le antenne. Cioè, se è rimasto in 10 che è stato un infortunio, siamo in inferiorità numerica, dobbiamo andare a qualcosa in più. In quel momento là invece ci hanno imbucato con troppa facilità. Secondo me, come dire, siamo andati in vantaggio. Ok, la partita si è messa verso il nostro, abbiamo dato qualcosina in meno per frangente, poi non siamo riusciti più a capovolgere la partita. Questo è un momento importante per noi per il proseguo della stagione, quindi dobbiamo dare qualcosa in più. È normale che più passano le partite, meno vinciamo, più si farà pesante la situazione. Quindi dobbiamo cercare il prima possibile. Se ci è mancato qualcosa prima, dobbiamo darla adesso. La fortuna ci mette davanti un'altra partita domenica, quindi dobbiamo cercare di andare a Castellammare e dare il massimo. Magari prima abbiamo sentito troppo profumo, come si dice, eravamo un pochettino troppo profumini. Adesso dobbiamo cominciare a sentire un po' gli odori, quindi penso sia questo che ci sta mancando, onestamente. Credo che non è un discorso fisico, magari all'inizio eravamo più liberi, non avevamo la pressione di dover fare il campionato di vertice per forza, perché la squadra non è partita per fare un campionato di vertice per le prime tre posizioni, nemmeno forse per le prime cinque posizioni. Quindi eravamo molto liberi. Il momento che ti trovi davanti al fatto di quell'esploare, inizio campionato, importante, capisco che la pressione possa generare qualcosa di diverso. In questo momento le cose non vengono, l'unica cosa che possiamo fare è continuare a lavorare per cercare di ritrovarci, perché noi le nostre lacune penso che le abbiamo mascherate nelle prime partite, perché questa squadra ha delle lacune, non c'è niente da fare. Poi ha del potenziale sì, ma è una squadra che ha delle lacune, altrimenti non è una squadra per competere per la prima posizione, detto onestamente. Quindi se abbiamo superito quelle lacune con l'atteggiamento, con l'agonismo, con la voglia di rincorrere finché non ci casca la lingua per terra, dobbiamo ritirarlo fuori, perché solo così penso che possiamo cercare di invertire questo trend. I campionati poi sono sempre particolari, non è che sempre vince chi dovrebbe, dicendo. Questa squadra ha fatto vedere che potrebbe lottare tranquillamente per il terzo posto. In questo momento si sta allontanando, ma non neanche perché stanno correndo più di tanto, ma perché noi purtroppo ci siamo fermati in questo momento. Noi dobbiamo fare il meglio che possiamo fino a fine anno. Dove arriveremo? Arriveremo. Quella sarà la posizione che siamo meritati. Io ripeto sempre questa cosa, perché quando ti mancano negli episodi delle situazioni, a me la sfortuna mi piace, definire sfortuna. Gli episodi capitano per un motivo, perché ti manca qualcosa, perché non hai l'attenzione giusta come squadra, perché non hai l'intensità giusta come squadra, altrimenti non ti capita. Quindi la posizione che raggiunge a fine anno sarà quella che si è meritato. L'anno scorso eravamo una squadra che meritava di stare all'ottavo posto, per quello che abbiamo fatto vedere. Siamo arrivati a ottavi, perché non meritavamo di stare oltre il Monopoli, oltre il Potenza, oltre queste squadre qua. Quindi alla fine, quando chiudo il campionato, è la verità, punto. Hai giocato 36 partite, 34, non puoi nasconderti.